2 anni fa questa partita valeva un posto in Serie A, se lo aggiudicò il Cesena superando con una doppia vittoria in Latina. Oggi è una sfida salvezza, 6 punti per la formazione romagnola, 4 per il Latina che dopo la vittoria dell'Avellino è ultimo in classifica da solo. Urge muoversi. Prova a mettere dentro col testo, Paponi! Vantaggio Latina, ha segnato Paponi e il Latina è avanti dopo 7 minuti di gioco. Parte Ciano e segna uno splendido gol, 1 a 1 ha pareggiato il Cesena, una splendida punizione di Camillo Ciano. Paponi, De Vitis, prova col testo, De Vitis, la respinta e poi la parata in due tempi di Maiko Lagazzi. E senza recupero si va all'intervallo sul punteggio di parità. Diuric prova a rientrare sul sinistro, Diuric adesso sul destro, Diuric! 2 a 1, Cesena! Una splendida azione di Milanduric che si è liberato. Ha fatto tutto benissimo, tutto perfetto. Palla sul destro, Garritano! La respinta, poi Ciano! Ciano! Il salvataggio sulla linea spettacolare di Mariga. Acosti. Insiste Acosti. Lo spiovente a vuoto d'urso. Poi Rolando. Rolando! Splendido gol di Rolando. È 2 a 2 a Cesena. A 90 secondi dalla fine del recupero. Gran gol di Rolando. Appareggiato in Latina. Finisce qui. È 2 a 2 a Cesena. Tra Cesena e Latina. Dopo che crei così, per un motivo o per l'altro, non facciamo gol. E si può rischiare di prendere l'altro mondo. Siamo stati squadra. Abbiamo concesso poco. Abbiamo avuto delle occasioni che potevano andare su 2 a 1 con Boacì. Penso che il risultato sia più che merito.